Il problema del caro Bollette tocca anche tutti gli ospedali d'Italia. Ne abbiamo parlato con il direttore generale della ASL Toscana Sud-Est, Antonio Durzo. Gli ospedali sono aziende energivore, abbiamo un elevatissimo consumo di energia e quindi la nostra bolletta come azienda Toscana Sud-Est passa dai 12-14 milioni a cui eravamo abituati a un raddoppio del valore della stessa bolletta, sia per energia elettrica che per consumo di gas. Non credo che questa situazione determinerà una contrazione dei servizi e faremo di tutto affinché ciò non avvenga. Il messaggio non è rivolto ai cittadini, il messaggio è rivolto alle forze politiche che devono rendersi conto di questa situazione che secondo noi va gestita come è stato gestito il Covid, quindi con risorse straordinarie assegnate. Non solo si parla di interventi a carico dell'industria e della piccola e media impresa, le aziende sanitarie sono aziende energivore e devono essere incluse nel novelo delle aziende che devono essere supportate per l'aumento dei costi energetici. I consumi dell'azienda sanitaria Toscana Sud-Est sono pari a circa 74 milioni di kilowattora e per quello che riguarda il gas metano 12 milioni di metri cubi, equivalenti all'incirca al consumo di 27.400 famiglie. Dal punto di vista dell'efficientamento è previsto un nuovo impianto fotovoltaico presso l'ospedale San Donato di Arezzo. Il costo è di un milione di euro e vantaggi attesi di circa 130.000 euro all'anno. Ci sono poi dei comportamenti virtuosi che si possono adottare. Un esempio è quando l'azienda ha aderito all'iniziativa Mi Illumino di Meno soltanto riducendo l'illuminazione dei parcheggi. Il risparmio è stato di oltre 15.000 euro a notte. Molto possiamo fare noi come gestori, come azienda, molto possono fare i singoli professionisti nell'adottare gli stessi comportamenti che il ministro Cingolani ha ipotizzato anche per le nostre abitazioni private.